Mi piacerebbe che un giorno mi facessi la domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò sì lo voglio, voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni. Ecco il messaggio commovente che il fidanzato francese di Enzo, Micho Laurent, ha inviato a Vieni da Me, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Non me l'aspettavo, ha detto quasi in lacrime il wedding planner più famoso della tv italiana. Sono contento che questa cosa sia successa perché è qualcosa in cui abbiamo investito molto entrambi, passando anche momenti difficili e interruzioni in questi anni e credo che adesso sia iniziato un nuovo cammino insieme, ha spiegato Micho.